C'è aperta la votazione. Colonnese. Quarta pelle. Locatelli. Locatelli. Allora, quarta pelle non ancora si ha votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 251, contrari 105, la Camera approva. Articolo 4. Nessuno chiede di intervenire. Dichiaro aperta la votazione. Russo. Adornato. D'Agostino. Malisani. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 252, contrari 110, la Camera approva. Siamo all'articolo 5. Nessuno chiede di intervenire. Dichiaro aperta la votazione. Tartaglione. Fregolant. Ci siamo. Tartaglione. Luigi Gallo. Qui davanti. Scusi. Qui. Qui. Il deputato. Hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 255, contrari 114, la Camera approva.